live nation i concerti ritorneranno in estate il presidente della multinazionale della musica dal vivo live nation ha fatto sapere che i concerti negli stadi e nelle arene all'aperto ritorneranno per l'estate del 2021 da settimane infatti la società sta studiando le modalità che permetteranno agli artisti di tornare sui palchi il presidente rapino ha detto che i grandi eventi del prossimo anno saranno confermati nel rispetto delle norme per impedire i contagi e limitare la diffusione del virus